Dopo sei anni intensi di lavoro, il giudice Anna Allegro lascia il Tribunale di Nocere Inferiore, dove ha presieduto il Terzo Collegio. Nel corso di una cerimonia, alla presenza tra gli altri del presidente della Corte d'Appello di Salerno, Matteo Casale, oggi il saluto a colleghi e collaboratori amministrativi, condiviso con un altro giudice trasferito alla Corte d'Appello di Napoli, Arturo Pizzella, e alla dirigente amministrativa Francesca Delgrosso, vincitrice di concorso in altra sede. Una cerimonia semplice ma sentita per la dottoressa Allegro, che ha sottolineato nel suo intervento che si è svolto nell'Aula Bunker il carico umano, oltre che professionale, che porta via dall'esperienza nocerina, con l'appello alle forze sane dell'agro di affiancare con un'azione di prevenzione l'impegno di contrasto prettamente punitivo di magistratura e forze dell'ordine. Il territorio dell'agro non è dissimile da tutto quello che è un po' la regione Campania, e perché no? Con un intervento più incisivo della prevenzione, perché io ritengo che la prevenzione sia sempre fondamentale rispetto a dove arrivi il giudice o la Procura della Repubblica arriva già in una fase ritardata, di seconda battuta, quando già si è commesso il crimine. Quindi se si istruisse la popolazione, se si desse tanta educazione civica, indubbiamente, ahimè, bisognerebbe risolvere anche un pochino il problema del lavoro, perché quello poi la cui manganza determina le affiliazioni ai vari clan, voi quelli della droga, voi quelli della camorra, voi quelli della delinquenza comune. Le partenze di due giudici e di un amministrativo vengono analizzate dal presidente del Tribunale di Nocera, Catello Marano, in considerazione di un più ampio mosaico di lacune inorganico nel presidio di giustizia dell'agro. Per la verità la dottoressa del Grosso che va via, che già è andata via e che ha vinto recentemente il concorso per dirigente amministrativo, in realtà non lascia vacante il posto di dirigente amministrativo. Quindi fortunatamente il posto di dirigente amministrativo già è occupato da tempo dalla dottoressa Di Lorenzo. Per quanto riguarda invece questi due magistrati che sono andati via, in realtà già sono stati sostituiti, solo che i magistrati che dovranno sostituire questi due colleghi non hanno ancora preso possesso della nuova sede. Quindi quando verranno tutti i magistrati, che recentemente il CSM ha destinato al Tribunale di Torre Annunziata, ci saranno solo tre vacanze su 22 giudici. Per quanto riguarda queste tre vacanze, riguardano i vari uffici, il settore penale e i giudici del lavoro? Queste tre vacanze attualmente riguardano due al settore penale e uno al settore civile. Noi però ci auguriamo che possono essere poi coperte al più presto sia con un'eventuale assegnazione dei magistrati ordinari in tirocinio, cioè quelli di nuova nomina, oppure con magistrati già in servizio che col prossimo bollettino del mese di giugno 2013 potrebbero fare istanza di tramutamento di trasferimento.